No, di lei come la vede? Loro possono anche chiedere una proroga della fase di discussione. Però poi si vota, dovrebbero votare, no? Per fare questo, il Parlamento Europeo può votare fino alla fine del mese di giugno, questo Parlamento Europeo può votare sì o no. No, però loro non escono, la Gran Bretagna va al voto come andiamo al voto noi a maggio. Se hanno tempo per chiedere una proroga da oggi, di fatto, fino al 31 di giugno, al 30 giugno, per poi votare entro quella data, perché poi si insedia il nuovo Parlamento Europeo. Quindi potrebbero votare dopo di noi? No, noi votiamo a maggio. No, no, le elezioni di maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo fanno nascere un Parlamento Europeo nuovo che si insedia il primo di luglio. Fino a tutto il mese di giugno è in carica l'attuale Parlamento Europeo. Quindi questo Parlamento Europeo può votare sì o no entro la fine di giugno. È chiarissimo, ci ha spiegato un quadro. Entro il 30 giugno si può votare.